Musica Ciao a tutti, sono qua con i ragazzi della Sporting Longobarda Piacere, piacere Giorgio Lonca Edoardo Romano, ciao Grande partita, diciamo un po' pazza perché è un primo tempo a bassi ritmi Poi vi siete rifatti in secondo tempo Eh, devo dire, abbiamo iniziato come spesso succede, purtroppo piuttosto troppo timidi Abbiamo rimesso in carreggiata la partita un paio di volte E con molta superficialità stavamo per buttarla all'urticche proprio agli ultimi 5 minuti Con uno score di 2 sotto che era abbastanza ingeneroso e con poche speranze Grazie a Dio quest'oggi abbiamo avuto un grande innesto da quel di London, da Londra Edoardo che è venuto da Mourinho Che è venuto a darci manforte e devo dire se questa vittoria è stata presa all'ultimo istante Per una larga parte merito di questo acquisto e sicuramente della squadra E anche vorrei, con l'occasione per salutare il nostro presidente Andrea Tassi Che apparentemente ha avuto un brutto infortunio e siamo convinti che sia solo questione di tempo E possa tornare di nuovo a darci forza Edoardo qualche parola, qualche commento Ha detto tutto Giorgio Un po' più noffiato scusate Sono messo la vittoria invece di squadra Abbiamo giocato tutti, abbiamo dato il massimo Siamo partiti male, timidi Siamo mangiati anche un paio di gol Poi siamo usciti nel secondo tempo È venuto fuori gruppo Siamo trovati meglio in campo Quindi noi giocavamo insieme per la prima volta E alla fine è venuto un gol fortunato Un po' di contrasti E sono riuscito a chiedere l'avvento Una grande vittoria Siamo venuti a festeggiare Alla grande allora Grazie mille Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie